Oggi parliamo di un libro dal titolo L'ospite di Stefani Maier. Tutti conoscono Stefani Maier per la sua opera più famosa Twilight che ha rubato il cuore di milioni di ragazzi adolescenti o come si dice oggi young adults. L'ospite, bisogna dire che mentre Twilight è scritto per un pubblico adolescente, ecco che l'ospite, unico volume, quindi la storia ha un inizio e una fine e non dobbiamo aspettare sequel, prequel per capire da dove inizia, dove va a finire questa storia, è adatta, è fruibile anche ad un pubblico più adulto. L'ospite è un romanzo a metà fra la fantascienza e il romanzo distopico. Cosa vuol dire distopico? Noi siamo abituati a sentire il termine utopia, quindi l'immagine di una società perfetta, lontana, perfetta, bella, meravigliosa. Ecco, distopia è il contrario. Quindi romanzo distopico, un romanzo che ha come ambientazione una terra, una società in crisi, piena di problematiche. Detto così sembra un romanzo bruttissimo, invece no, è meraviglioso. L'idea centrale del libro è questa. Siamo in presenza di una colonizzazione aliena. Questi alieni stanno colonizzando la terra in che modo? Senza guerra o spargimenti di sangue. Si impossessano delle persone impiantandosi all'interno del loro cervello, quindi si impossessano delle loro sinapsi e cancellano la coscienza dell'individuo impossessandosi però prima della sua personalità. Il libro inizia con questa scena. Siamo in presenza di un impianto di questo genere. C'è un'aliena, dal nome curioso, viandante, che viene impiantata all'interno del cervello di una giovane, bellissima ragazza che fa parte della resistenza terrestre. Essendo una ragazza forte, quindi piena di coraggio, quindi con una personalità molto, molto tenace, ecco che questo impianto non funziona, per cui questa aliena si trova a dover iniziare un dialogo con questa ragazza. Da qui il titolo, l'ospite appunto. Inizia questo dialogo in cui le due ragazze devono iniziare a conoscersi, a mettersi d'accordo su come risolvere questo problema. Questa è soltanto la sintesi delle prime dieci pagine del libro. Il resto è meraviglioso e avvincente. Ma perché si dovrebbe leggerlo? Per tre motivi. Innanzitutto perché è un libro completamente diverso dalla saga di Twilight, che per inciso ho letto interamente. È fruibile da un pubblico più adulto, ma soprattutto all'interno di questa trama avvincente la Mayer affronta dei temi molto importanti, quali la diversità, la tolleranza, l'accettazione, ma soprattutto parla dell'amore con la maiuscola. Non l'amore quello presente nei romanzi harmony, quindi l'amore sensuale, ma qui si parla di un amore vero, di un amore reale, quello che va oltre e che è anche il sacrificio di sé. Infatti in questo romanzo viene ripresa quella che è la poetica della Mayer, già vista in Twilight, quindi l'amore che va oltre, che va contro tutti e contro il comune buonsenso. Ma mentre in Twilight è annebbiato da questa nuvola fantasy, qui in questo romanzo questo amore risulta più vero, nonostante sia un romanzo distopico, risulta più vero e più reale. Leggendo le ultime pagine del libro, fra una lacrima e l'altra, perché è veramente meraviglioso, mi sono fermata a riflettere che forse alla fine tutti noi scopriremo di essere fatti così. E stavo riflettendo sul fatto che se tutti noi imparassimo da subito ad andare oltre, ad andare oltre le apparenze, all'essenza vera delle persone, anche noi potremo scoprire quell'amore con la A maiuscola che è raccontato così magistralmente dalla Mayer in questo libro e che il film non è riuscito a rendere appieno. Un libro meraviglioso, tenero, romanticissimo, consigliato. Grazie. Grazie. Grazie.